Mi chiamo Luigi Grosso e la mia posizione è quella di essere un vecchio ortopedico. Questa domanda mi piace perché per me sin da quando ero piccolo ho sempre desiderato fare il medico e quello di aiutare le persone che soffrirono e la mia scelta di fare l'ortopedico è quella di fartare bene le persone. La mia priorità in assoluto è quella di guarire le persone. Questa è la scelta del mio lavoro sin da quando ero bambino e continuo ad essere oggi che continuo a studiare, continuo a cercare nuove soluzioni per guarire i pazienti. I miei erano degli imprenditori quindi cose molto pragmatiche. Io invece sin da piccolo sono sempre appassionato a studiare le cellule, come si riproducevano. Insomma è stato sempre un interesse meraviglioso di questa natura biologica che si sviluppava in una maniera incredibilmente meravigliosa, come dicevo. E quindi pian piano, pian piano ho deciso di fare il medico perché prima di tutto per studiare il campo della medicina nelle sue varie sfaccettature. E non a caso poi mi sono specializzato in oncologia, in chirurgia generale, insomma ho preso diverse specializzazioni proprio perché sono curiosissimo della medicina e di quali possono essere gli strumenti per poter guarire le persone. Apparentemente sarebbe difficile scegliere tre aggettivi, però allora impegno, impegno è il primo aggettivo perché è l'impegno costante nell'aggiornarsi e nell'essere sempre al corrente delle nuove metodiche per poter guarire le persone con strumenti che sempre più vengono aggiornati come metodica di guarigione per le persone. Quindi è un impegno costante nell'aggiornarsi. L'aggiornamento è fondamentale perché oggi come oggi ci sono sviluppi nemmeno annuali. Un mese c'è una strategia terapeutica e dopo qualche mese esce un'altra strategia ancora migliore di quella precedente. Quindi un impegno costante ad aggiornarsi. Il secondo aggettivo personalmente è la passione perché la passione è il motore che ti spinge a fare le cose bene e soprattutto poi ti fa apprezzare molto dai pazienti perché i pazienti se ne accorgono quando tu hai la passione. Poi io ci metto un po' di napoletanità dentro quindi scherzo, gioco, alleggerisco il peso della malattia e quindi si crea una sorta proprio di amicizia con il paziente. Quindi questo scaturisce solo dalla passione. Il terzo aggettivo invece è quello di essere chiaro, limpido, spiegando bene ai pazienti la malattia e dando tutte le informazioni. C'è quello di ascoltare. Il terzo aggettivo è quello dell'ascolto del paziente e di non sbrigarlo in 448 e mandarlo via. Invece ascoltare tutte le sue esigenze e rispondere a tutte le sue domande. Io invito sempre i miei pazienti a scrivermi in tutti i modi possibili e immaginabili con WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, per email. L'importante è che mi scrivete e cercate di mettervi in contatto con me in qualsiasi modo e rispondo a tutte le vostre domande.